allora mettiamo normale dai così ci godiamo anche la storia non ci interessa fare i pro ce ne però frega di meno non ce ne pro frega di meno non è è Wyatt, ancora un po' di colore. Ecco qua. Ora aspettiamo. Sergente, pensi che l'aurora è siedita per voi. Così dicono. Così dicono, così dicono. E tu cosa dici, eh? Mecchi? Non so, Faraday. Secondo me tu hai qualcosa da dire. Per come la vedo io? Noi abbiamo l'atomica, i cruchibbi tu, e anche i giapponesi non fa cosa. Noi vogliamo lo scienziato. Punto e basta. Ehi, la squadra è pronta, sergente. Ok. Avvia i motori. Portaci dentro. Faccio. Un'isola. Un'isola. Una fede. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Non è andata benissimo eh? Non è iniziata bene. Ragazzi quando ancora facevano i Battlefield, li seri. Ma chi? Se quei bastardi hanno resistito fin qui, si tentano pure il disertore. Forza, muoviamoci! Perfetto ragazzi, partiamo con il primo capitolo. Dai, i tasti, insomma, saranno i classici tasti. Prendi quella a sinistra. Prendi quella a sinistra. Insomma crema, figlio di troia! Anche con meno cattiveria. Oh bene. Alla prossima. Avante! Mamma mia ragazzi L'audio è fantastico Cosa mi apprezza Aia Ok Di qua C'è ancora Saliamo lassù Ok In gala Forza Comunque Graficamente Nonostante gli anni Ancora è Molto Molto valido Cioè Ha i suoi anni Si vede Però Ancora è godibilissimo Gli effetti di luce Ok Io mentre sto stimando La grafica del gioco Dovrei pensare a non Prendere le mine Questo Perché se no Perché se no Ci tocca Ripete la parte Dieci volte Merda Questi sono grossi Perfetti di luce Fateli secchi! Abbiamo finito! Siamo stati fortunati. Qualcuno ci starà cercando. Vediamo di trovarlo. Coraggio! Resistiamo! Comunque ragazzi, sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco. Se lo avete giocato ai tempi. O se non l'avete fatto, fatelo. E' spettacolare. Ottimo, portiamolo fuori di qui. Aspetta un attimo. Cos'era quel rumore? Che sta dicendo? Io non lo so, sergente. Se ci hai venduti. L'arma nera si è avviata. Siamo morti. Ok, andiamo. E' inutile. Non mi sono spiegato. Noi ce ne andiamo. Sergente! Ci hanno tagliato la ritirata. Ok. All'hangar dei sottomarini. Ma è una trappola mortale! Sì. Lo so. Forza, avanti così! Avanti, avanti, avanti! Era facile. Mica mandavano noi. Merda! Quel rumore non mi piace affatto. Avanti, forza! La base aerea è chiusa. Sergente, ecco il nostro mezzo. Ok, ragazzi. State pronti. Via! 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 Ah, V gel. Forza, arrivanda via adesso. Fate presti! Con i sinelli edificio! Ok, vai! Per niente abbiamo finito Attenzione Per niente abbiamo finito Ma che ci sono? E' una volta? Non sono? E' un po' più E' un po' più PINCIA Andiamo 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 La situazione Che si fa Ah perfetto Basta che interi l'equità Io so felice Ok guarda avanti Sicuro che la trattante Sì Non c'è più tempo Presto Presto Merda Merda ci sono nemiche a 1.12 Non c'è più tempo Cazzo Sistono ancora Andri nemici Guarda avanti Guarda avanti Guarda avanti Ok fuori Via Imbarcazione nemica in passo Presto Vitroglietrice Distruggi Forza avanti Ah C'è la miseria Non è facile Ragazzi Buttare Boste Armi Vai Prendi Vai Sanzare la porta Ci va bene Ancora qui Se no Ha ragione Lo sentiamo Ci apri ma che è Mi sta andando Luffa Putta Ci conviene Sbrigarci Forza Amico sul passaggio Dov'è Eh no Spariamo in testa Al compagno Dov'è Come Sbrigate Il 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.